Altra convocazione al rarduro nazionale giovanile per Giuseppe Filpi. Il classe 2001 dell'Atletica Agropoli partirà in direzione Formia per ritrovo fissato per mercoledì 2 gennaio presso il centro di preparazione olimpica di Formia. Con lui come sempre il tecnico Angelo Palmieri che accompagnerà Giuseppe nei primi passi della stagione 2019. Purtroppo però il nostro Giuseppe arriverà a Formia non nelle migliori condizioni. L'ostacolista infatti soffre ancora per un fastidio alla cavia sinistra, giunto qualche settimana prima. Le sue condizioni saranno infatti valutate anche dallo staff medico nazionale che, in accordo con lo staff sanitario dell'Atletica Agropoli, diretto dal dottor Pisani, valuterà il da farsi per le prossime settimane. La possibilità di saltare il primo appuntamento stagionale, i campionati italiani indoro di Ancona, in programma dal 1 al 3 febbraio, è molto alta. Dispiace per questo imprevisto, dice il tecnico Angelo Palmieri, ma siamo certi che il lavoro di squadra intapreso ci farà arrivare alla fine dell'infortunio, in una forma fisica tale da rimettere velocemente le scarpette chiodate, al fine di programmare al meglio la stagione a Tudor, che inizia a inizio maggio.